Per Girgenti Acque, il gestore del servizio idrico nell'Agrigentino, l'acqua che arriva a serbatoi comunali di Canicchattì, Campobello di Ricata, Ravanusa e Palma di Montechiaro, proveniente dal Fanaco, è potabile. Ma i sindaci dei quattro comuni agrigentini, rispettivamente Ettore Di Ventura, Giovanni Picone, Carmelo D'Angelo e Pasquale Amato, non hanno ancora revocato le proprie ordinanze che vietano ai cittadini l'utilizzo dell'acqua a fini potabili, predisponendo invece l'uso per scopi igienico-sanitari. I sindaci stanno aspettando l'esito degli esami di laboratorio sui campioni prelevati dall'Asp per poter revocare le ordinanze. Girgenti Acque, spiega il sindaco di Campobello, Gianni Picone, ci ha comunicato il 31 ottobre scorso che l'acqua in ingresso e in uscita dal serbatoio comunale Garcitella-Fondachello è potabile. Ho chiesto all'Asp di effettuare i controlli e solo dopo il loro esito positivo revocherò l'ordinanza. Nel frattempo Girgenti Acque, conclude il capo del comune di Campobello, ci comunica che entro questa settimana provvederà alla disinfezione e pulizia del serbatoio. Stesso discorso per gli altri comuni. Sicilia Acqua aveva fatto sapere di aver attivato presso un impianto di potabilizzazione tutte le procedure necessarie all'abbattimento del manganese. E' stata riscontrata anche la presenza di batteri coliformi nell'acqua che è la causa principale della decisione di diversi sindaci su indicazione dell'Asp di Agrigento di vietare l'utilizzo dell'acqua per usi potabili. Ieri il sindaco di Ricata, Angelo Cambiano, a causa dell'elevata torbidità dell'acqua riscontrata presso i serbatoi comunali e a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, ha ordinato con apposito provvedimento il temporaneo in utilizzo dell'acqua erogata ai fini potabili. Ciò fino a quando l'ente gestore del servizio non comunicherà l'esito favorevole dei controlli interni e quindi ripristino della conformità dei valori delle acque in distribuzione ai parametri previsti dalla legge. Contemporaneamente, con una nota inviata ai girgenti acque, il capo dell'amministrazione comunale ricatese, facendo proprio le legittime richieste della popolazione, che oltre ad essere preoccupata per il protarsi del disservizio ritiene inaccettabile questa situazione, ha invitato ufficialmente la società a sospendere il pagamento delle bollette per consumi idrici per tutto il periodo che va dal 31 ottobre e si prolungherà fino a quando non verranno ristabiliti i parametri di potabilità dell'acqua erogata fissati dalla norma. La replica di girgenti acque. Non è possibile ridurre o addirittura sospendere l'emissione delle tariffe se non in applicazione di provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico si è espressa così in merito all'erogazione del servizio acquedotto nei comuni interessati da limitazioni problematiche in trattazione rispetto a precedibili esigenze di tutela della salute degli utenti, problematiche che possono essere superate solo con la piena realizzazione dei previsti interventi infrastrutturali. Non si ritiene di poter procedere ad una riduzione delle tariffe del servizio idrico integrato per motivi attinenti alla regolamentazione tariffaria, alla necessità di evitare incentivi distorti e promuovere la realizzazione delle opere necessarie al superamento delle criticità riscontrate.